Siamo arrabbiati e inaccettabile che nessuno si sia preoccupato di invitare almeno una squadra. I vigili del fuoco di Catania non usano mezzi termini. Ieri si è svolto lo stress e test del nuovo pronto soccorso all'interno del Policinico che da domenica sarà aperto al pubblico. Un'esercitazione per valutare l'efficienza della struttura in situazioni di particolare difficoltà e loro non c'erano. Nonostante la presenza di Stefano Candiani, il sottosegretario all'interno con delega ai vigili del fuoco, nessun rappresentante del comando Etneo è stato invitato. Mentre l'ONU premia i vigili del fuoco italiani come miglior team internazionale di soccorso, ottenendo il punteggio più alto mai realizzato in una esercitazione, a Catania si dimenticano della loro esistenza. E l'ennesimo schiaffo morale hanno denunciato durante una affollata assemblea organizzata dall'Unione Sindacale di Base subito dopo la simulazione all'interno del Policlinico. Non sappiamo se sia stata una dimenticanza, una gaffe o uno sgarbo, né di chi sia la colpa, se dell'ufficio del sottosegretario o del Policlinico e dell'assessorato regionale alla salute, che hanno organizzato lo stress test. Di certo i vigili del fuoco sono stati ancora una volta offesi. Un retroscena che fa emergere il malessere vissuto dei vigili del fuoco, soprattutto Etnei, chiamati ad operare in un territorio complesso, facendo fronte anche ad enormi difficoltà organizzative. La verità, conclude una maria, è che siamo trattati da ultimi come contratto, come tutela e anche come importanza. I vigili del fuoco, soprattutto quelli che operano in Sicilia, di fondamentale importanza per la popolazione, devono essere incentivati, non repressi.